Matteo Aglio Paolo Scaliano Rossa No, a me se è rosso però Oh, di un attimo, è rossa cosa fanno? Secondo me il rosso sta registrando Cioè non abbiamo registrato un cazzo? Secondo me sì No Sì 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 No Guarda Guarda Adesso sta riprendendo, te lo dico io Questo quello che abbiamo fatto prima non l'ha registrato Dici Sì signore era verde e era attiva Allora Quando è verde scusa? Quando è verde? Per nante Per nante Per nante Tu devi ripetere quello che hai detto Perché l'argomento di conversazione era Melandri Certo Allora io ripeto Spero di dire le stesse cose Nonostante abbiamo dormito due notti molto corti Io ragiono da team manager Per cui faccio credere un abito che magari È diverso da quello che hanno fatto altre persone in aprile In questo momento Però non la mente Scusa da team manager Deve dire quello sportivo Dovrebbe essere sempre unico Io dopo la prima magia Scusa da team manager Scusa da team manager